Pace bene a tutti, bentrovati. Oggi, 25 novembre, noi ricordiamo Santa Caterina da Alessandria. Ascoltiamo. All'origine del culto di questa santa del IV secolo si pone una leggenda. L'imperatore Massenzio, recatosi ad Alessandria, ordinò che tutti i sudditi immolassero agli dei, ma Caterina, diciottenne di stirpe regale, si recò al tempio per incoraggiare i sudditi alla resistenza. Fu arrestata e portata alla presenza dell'imperatore, che per confondere i suoi propositi di fedeltà al credo cristiano la pose a confronto con filosofi e retori. Ma ella, confortata dall'apparizione dell'arcangelo San Michele, persuase i sapienti ad aderire alla fede cristiana. Allo stesso modo respinse i propositi dell'imperatore, attirato dalla sua bellezza, e convertì alla fede i soldati mandati a sorvegliarla in prigione. Venne martirizzata, dopo alcune vicende straordinarie, il 25 novembre del 305. Il culto di questa santa divenne molto popolare nel Medioevo. Chiese e altari vennero dedicate in suo nome e fu anche scelta come patrona delle scuole filosofiche. pellegrini di ogni epoca successiva venerano la sua tomba presso il monastero del Montesinai. Santa Caterina d'Alessandria è stata una donna eccezionale, che ha saputo veramente reggere delle situazioni di grandissima tensione. Colpì il sovrano quando lei, come abbiamo sentito dalla storia, si rifiutò di commettere dei riti pagani e insomma lei a testa alta riuscì a far valere le proprie opinioni. Tant'è che il sovrano conquistato la mise di fronte ai sapienti di corte e lei argomentando le sue posizioni riuscì addirittura a convertire questi sapienti, tant'è che il suo culto è particolarmente diffuso negli ambienti dotti. Pensiamo un po' una donna che già a quei tempi riusciva a tenere testa a un consesso di uomini che avevano l'autorità anche del sapere e questo veramente ha colpito tanto e tant'è che lei è diventata addirittura anche la patrona dell'università famosissima, importantissima, la Sorbona di Parigi e come ho detto prima il suo culto particolarmente vivo all'interno di ambienti di cultura, ambienti in cui il sapere aveva il suo peso. Quindi oggi vogliamo fare la nostra preghiera proprio per questi ambienti, gli ambienti del sapere che non solo hanno il compito come dire di erudirsi ma hanno una funzione molto importante, quella di diffondere il sapere di far sì che non sia solo un qualcosa per pochi ma che sia un qualcosa per tutti. Allora ci affidiamo a Santa Caterina per questo affinché tutte le persone che dedicano la loro vita alla conoscenza, gli studiosi, ecco abbiano anche questa grande missione di portare la conoscenza a tutti e lo facciano nella maniera più pura possibile. Santa Caterina prega per noi.